Per quanto riguarda la gestione degli animali post-parto, è ormai da un paio d'anni che utilizziamo i boli in calcio. Ci sono stati di grande aiuto perché sono molto più comodi rispetto a una flebo che va fatta per via endovenosa e quindi anche da un punto di vista gestionale c'è risultato molto più comodo poterli utilizzare. Sono dei boli utilizzabili con delle pistole lanciaboli, molto semplici da inserire nella bocca dell'animale e in pochi secondi il lavoro è fatto.